Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy per Omnia, versione global. Oggi perché? Parliamo di una cosa particolare, ovvero sono usciti i nuovi Awakening, livello 70. La seconda batch, a dire la verità, che rappresenterebbe in teoria il mese di settembre, anche se è stata un pochino confusionaria la situazione, in quanto a fine agosto sono usciti già i primi livelli 70 e adesso invece, a quasi fine settembre, stanno uscendo altri livelli 70. Andiamo a vedere un attimo le notizie, perché, come potete vedere, c'è subito la notizia dei nuovi Level Cap Lifted, dei nuovi personaggi a livello 70, di cui abbiamo Seven, abbiamo Faris, abbiamo Terra, Ramza, Zack e Yuna. Personaggi che tendenzialmente non sono malvagi adesso nel gioco, soprattutto Zack adesso è diventato veramente veramente buono, ma non con il livello 70, bensì con l'Ex of Lust. Quindi non fate confusione, magari non investite troppi cristalli neri su di lui, soprattutto se per il momento magari non avete fatto Noctis. Noctis, ho letto tantissimi messaggi, ho letto tantissime cose dove gente addirittura quasi azzannava chi avesse pullato su Noctis, cioè veramente cose assurde. Comunque, quello che vi posso dire io come consiglio da esterno e come usufruitore della versione giapponese da più tempo, vi posso dire che effettivamente gli unici personaggi che in questa batch si salvano sono Ramza e forse ancora ancora un po' Yuna. Yuna in realtà, secondo me, andrebbe pullato a più avanti quando appunto riceverà anch'essa la Ex of Lust, in quanto con il buff della sua Ex of Lust avrà già Vale for attivo, quindi non dovrà aspettare tutto il tempo per poterlo evocare e quindi sprecare skill. Potrà essere utilizzata per farmare, sarà veramente ottima per farmare, e soprattutto sarà comunque un buon DPS, soprattutto, ripeto, se avete i suoi artefatti maledetti. Perché esattamente, se parliamo di rework, se parliamo di personaggi sistemati, tra virgolette, abbiamo Ramza che prende un rework a sé, davvero davvero ottimo, Terra che prende un rework che la mantiene in auge, quindi la mantiene al top un attimo, per quanto riguarda i danni, per un po', però poi effettivamente va a perdere parecchio, quindi non la consiglierei più di tanto, effettivamente. E quindi, sì, effettivamente diciamo che gli unici che secondo me possono essere utilizzabili e comunque possono dare qualche soddisfazione sono Ramza, che sarà estremamente utilizzabile anche durante il periodo Chaos, e poi Yuna che comunque, anche con X, diciamo che bene o male, riesce a fare qualche cosina. Però ripeto, solo se è in presenza dei suoi artefatti maledetti, quindi dei Cursed. Poi vabbè, Faris diventerà ottima anche più in là, perché comunque ricordiamoci sempre che possiede il Dispel, il Debuff, sono meccaniche che non vanno sottovalutate, però Ramza, secondo me, è quello che eccelle assolutamente all'interno di questa batch awakening in generale. Terra, ripeto, verrà utilizzata per un periodo relativamente breve, farà tanti danni, molti magari potrebbero restare stupefatti anche del fatto oddio, K99k è una bestia, è fortissima, eccetera, eccetera, però poi dopo un paio di mesi vedremo che è quello che succederà. E ovviamente presentiamo il banner, il primo banner dove appunto abbiamo la ex di Yuna, rilasciata, e poi 1535 di Seven e Zack. Banner che io personalmente vi consiglierei di skippare, semplicemente per il motivo che Yuna con la ex uscirà successivamente insieme a Kimari, quindi potrete effettivamente ottenere due personaggi al prezzo di uno, anche perché Kimari io ad esempio ai tempi l'ho pullato, e secondo me ha una meccanica interessante, solo che effettivamente dura meno rispetto a quello che in realtà pensavo durasse, quindi un pochettino così e così. Poi successivamente abbiamo l'evento Heretic, ovviamente, dato che il Ride Boss lo abbiamo avuto praticamente a fine agosto, quindi adesso alterneremo con queste Heretic, l'Heretic del Encountering the Dark Dragon, quindi avremo la possibilità di effettuare livelli al solito co-op e livelli X e Cosmos per quanto riguarda appunto questa sorta di boss fight in generale. E successivamente abbiamo anche il secondo banner, che è decisamente più interessante al momento, perché comunque contiene sia l'ex di Terra che l'ex di Ramza, e poi la 1535 di Faris. Ex di Ramza che potrebbe essere presa anche durante l'ex Weapon Shop, quindi potreste anche evitare di pullare in questo banner, però so che magari potrebbe fare gola avere anche la ex di Terra e quindi in contemporanea avere l'una e l'altra. Ora, parlando di Terra, è un personaggio che comunque al momento riesce a fare dei danni, però il problema fondamentale resta la sua ex. Ha una delle ex più brutte e deboli di tutto il gioco, quindi non vedo come effettivamente qualcuno, non lo so, o comunque in generale si possa elogiare Terra. Io capisco che effettivamente ci sono i fanboy e che quindi pullerebbero o pulleranno Terra a prescindere, ed è giusto che sia così, perché in fin dei conti questo è un gioco che deve premiare non solo la tecnica e la testa, ma deve premiare anche una parte del cuore, ovvero il fanboyismo, e sono assolutamente d'accordo, però io personalmente vi do sempre, cerco almeno di darvi sempre dei consigli per quanto riguarda l'efficienza del gioco e soprattutto per quanto riguarda l'efficienza nei contenuti futuri. In questo caso l'unico che vale veramente la pena è Ramza, anche perché, come vi ho detto prima, anche in alcune caos può essere utilizzato e viene utilizzato soprattutto per la grande capacità di potersi buffare da solo e poter attaccare con una grande quantità di Brave. Poi successivamente abbiamo anche la campagna con i costumi limitati, è uscito il costume di Terra versione classica e il costume di Ramza versione armatura tactics e poi ovviamente nulla di importante tranne appunto il character adjustment che è stato rilasciato oggi dove appunto vengono menzionate tutte le iniziative o comunque vengono visualizzate tutte le migliorie che sono state fatte per l'appunto a Yuna, che sono state fatte a Ramza e che sono state fatte a Terra. Anche se devo essere onesto, diciamo che il rework di Yuna, se così si può chiamare tra virgolette, non è tanto un rework ma è appunto la possibilità di poter trovare i suoi artefatti maledetti durante appunto l'unione di artefatti normali. Che cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi io voglio andarmi a spendere qualche ticket perché da un po' che non porto un contenuto pool tra virgolette suo per Omnia avendo comunque già tutti i personaggi che mi interessavano quindi avevo Wall, avevo Noctis che sono già personaggi su cui ho investito precedentemente proprio per questa eventualità. L'altro personaggio che sinceramente mi piacerebbe ottenere sarebbe Ramza. Possiedo 143 ticket, probabilmente li andrò a spendere una quarantina, una cinquantina di ticket. vediamo in base anche a come gira il banner e vediamo, vediamo perché effettivamente se riuscissi ad ottenere la ex di Ramza già qui quindi ottenere la ex di Ramza da questo banner in realtà se dovessero introdurre l'ex weapon shop che dovrebbe arrivare a fine di questo mese quindi non so se nella live che faranno tra un paio di giorni annunceranno appunto questa cosa non ne ho assolutamente idea però tecnicamente dovrebbero mettere il primo ex weapon shop e da lì qualora non riuscissi comunque ad ottenere la ex di Ramza con questi ticket probabilmente andrei a prendere direttamente Ishtola o comunque aspetterei e prenderei magari un altro personaggio che effettivamente potrebbe ritornarmi utile per il futuro vediamo un po' cosa succede con questi ticket purtroppo niente connecting, niente robe strane che mi fanno presagire magari un lieto fine molte armi bronzo come sempre d'altronde perché nel global almeno per me è sempre così cioè tantissime armi bronzo veramente manco le silver a 4 stelle ma direttamente bronzo così schiaffato in faccia con una cattiveria assurda 35 di Faris che già abbiamo quindi nulla di nuovo Faris è un altro personaggio che sto portando su dato che nella mia versione Jap non la possiedo perché giustamente non ha voluto non è voluto uscire e quindi mi ha dato praticamente l'impossibilità di poterla sfruttare almeno nel global magari qualche cosina se riesco a farla sinceramente mi andrebbe anche bene andiamo avanti sempre armi che non mi interessa ottenere so che ovviamente avere ticket o non avere ticket è tutto relativo perché giustamente uno potrebbe dire eh vabbè ma i ticket non vogliono dire nulla e questo sono assolutamente d'accordo però cioè una sola arma dorata dopo tutti questi ticket un pochino secondo me ti fa girare le scatole oddio no no quella di una qua Ramza vediamo vediamo cosa succede eh vabbè un'orba argentata ma non c'è stato connecting probabilmente un'arma che ho o addirittura un argento esatto la 35 di Ramza vabbè vabbè la 35 di Ramza mi fa comodo perché ce l'ho ma ancora non l'ho maxata quindi ottenere copie comunque della 35 non è malvagia come cosa così mi permettono di maxarla senza sprecare powerstone beh una oro una volta ogni tanto ci sta ecco la 15 di Ridia che non ha assolutamente senso proprio senza senso completo anche qua altra orb grigia cioè argentata anzi addirittura il trollino come giusto che sia ultimi 4 ticket per toccare i 100 poi non so se effettivamente andrò un po' più deep di questi 100 anche se in realtà dovrei fermarmi solo che comunque i ticket sono l'unica cosa che effettivamente posso spendere all'interno di sto gioco almeno della versione global quindi quindi un pochino un po' più deep posso andare alla fine non ci sono altri banner che mi interessano tantissimo c'è soltanto Noel che che è l'unico banner che mi interessa al momento Noel è l'unico banner su cui voglio mettere le mani con i ticket però ricordiamoci anche che c'è la summon prima quindi quindi tanta roba terra con la 35 ma già ce l'ho quindi non mi interessa allora vediamo quando mi mette il limite del delle armature e tutto una volta 35 di terra ottimo così dovrei aver finito anche ranzo oddio sta girando il banner ok ecco abbiamo finito allora facciamo spazio per gli ultimi ticket visto che ormai arriviamo a cifra tonda e purtroppo non ci siamo riusciti perché mi pare difficile che potremmo in qualche modo ottenere un'arma in qualche ticket visto che è gli ultimi 8 ok arriviamo a 80 arriviamo ad 80 vediamo un po' anche la 15 ma già ce l'ho la 35 l'ho appena maxata di ramza anche con 15 e 35 ramza comunque è abbastanza utilizzabile solo che ovviamente con la hex vi permette di sprecare meno skill quindi 15 di prish che già abbiamo vi permette comunque di sprecare meno skill e quindi avere una una durabilità più stabile ok quanti siamo 80 vabbè dai spendiamone qualcun altro ormai i ticket i ticket per me qua sono come acqua fresca alla fine li conserverò per tutti gli eventi che devo fare quindi spendiamo dai spendiamo proviamoci perché comunque avere ramza adesso ottenere ramza adesso la hex per lui a me eviterebbe tantissimi problemi in futuro ma veramente tantissimi problemi in futuro quindi da un lato ci spero proprio che esca però se non dovesse uscire ora ci do un taglio e e basta perché non ha senso andare a pullare così deep su un banner che comunque non vale la pena ragazzi veramente non vale la pena io ripeto pullo solo perché per me il global è una versione fan della mia versione jump a cui sto molto più attento su quello che faccio e come lo faccio qui per me è tutto diciamo una sorta di gioco proprio preso così per divertirmi ok facciamo gli ultimi spazi così magari arriviamo a 60 ticket precisi oppure mi fermo a 50 comunque una cosa del genere e poi chiudiamo completamente il nostro il nostro chase verso la ex di ranza vabbè dai si chiudiamo a 50 ticket così è come se ne avessimo spesi una centinaia giusto per far vedere che comunque anche che con 100 ticket o quelli che siano potrebbero non bastare per ottenere appunto una ex così come ci sono quelli che la beccano al primo ticket e sono super sculati ci sono anche quelli che ce ne spendono 100 e non ottengono nulla quindi 60 vediamo cos'è un'altra 15 a me va bene perché sono powerstone queste in fin dei conti non è una cosa malvaggia fare powerstone non è assolutamente una cosa malvaggia fare powerstone però giustamente tra tutte queste powerstone almeno la ex di ranza sinceramente mi avrebbe fatto comodo un'altra 15 di ranza beh dai come oro all'ultimo periodo non è stato così male però ok poteva andare sicuramente meglio va bene vuol dire che una delle armi che potrò prendere all'ex shop qualora lo mettessero sarà probabilmente ramza vediamo ramza pistola anche perché poi ci sarà se lo mettono il secondo weapon shop quindi ci sarà modo di poter sfruttare appieno anche diciamo anche questo secondo questo secondo weapon shop quindi va bene direi che magari lo potrò sfruttare più in là detto questo ragazzi io vi ringrazio al solito per essere stati con me e vi invito soprattutto stasera perché come ben saprete stasera che giovedì abbiamo la live Final Fantasy 8 su Twitch dove continueremo il nostro perfect gameplay alla volta stavolta di tutti gli avvenimenti che avvengono all'interno del garden di Balamb quindi venite a vedere un po' quello che succede e fatevi quattro chiacchiere anche con i ragazzi presenti in chat detto questo vi ringrazio vi saluto vi auguro buona fortuna nelle vostre pull qualora voi avete intenzione di pullare e ci becchiamo alla prossima